ciao a tutti e bentornati nella mia cucina oggi prepariamo insieme la maionese faremo due ricette la maionese con le uova e la maionese senza uova iniziamo da quella con le uova avremo bisogno di un uovo intero olio di semi di girasole o di arachidi non utilizzate l'olio di semi vari perché non va bene aceto succo di limone e un pizzico di sale iniziamo mettiamo l'uovo nel recipiente mettiamo l'olio e il pizzico del sale possiamo aggiungerci anche del pepe ma lo aggiungerò alla fine iniziamo a mixare dopo aggiungo aceto e limone quando vedete che la nostra maionese comincia a formarsi allora aggiungiamo un cucchiaio di aceto e un cucchiaio di succo di limone e mixiamo la maionese è pronta adesso la verso in una ciotola per farvela vedere meglio la nostra maionese è pronta ora io aggiungo un po' di pepe perché a me piace e andiamo a fare la seconda ricetta della maionese senza uova realizziamo quindi adesso la maionese senza uova avremo bisogno del latte di soia senza zucchero dell'olio di girasole dell'aceto del succo di limone di un po' di curcuma e di un pizzico di sale aggiungiamo quindi il latte di soia l'olio un pizzico di sale e cominciamo ad emulsionare a questo punto aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone un cucchiaio di aceto e un po' di curcuma per dare il colore un cucchiaio di succo di limone la maionese è pronta adesso la metto in un vasetto per farvela vedere meglio ed ecco la maionese senza uova questa è totalmente vegana ora io ci aggiungo sempre un po' di pepe perché a me piace e adesso vi faccio vedere le due maionesi già pronte queste sono le due maionesi pronte questa è quella senza uova e questa è quella con le uova per tutti gli ingredienti e le dosi fate riferimento al link in descrizione o nel primo commento che vi porta direttamente nel mio sito cucinaconme grazie a raffaele.it se questa videoricetta vi è piaciuta lasciate un like e condividete grazie alla prossima ciao